Ciao a tutti e bentornati a un nuovo video di Nutrizione Consapevole. Anche oggi nella mia cucina manteniamo le distanze reali, ma avviciniamoci nelle distanze virtuali. Quindi saremo insieme oggi per parlare di come suddividere i pasti durante i giorni di quarantena. Nel primo video vi ho dato alcuni consigli di come affrontare la quarantena per mantenere un livello di energia ed equilibrio ottimale. Nel video di oggi invece andremo ad approfondire proprio l'alimentazione durante la quarantena. Come vi ho spiegato anche nel primo video, in quarantena abbiamo tantissimo tempo, quindi ci può capitare di spizzicare continuamente durante la giornata e questo comportamento ci porta sicuramente ad avere uno suddivio alimentare e ad introdurre troppe calorie durante l'arco della giornata. Quando noi spizzichiamo durante la giornata, soprattutto a causa del tanto tempo libero e magari a volte anche della noia, andiamo a squilibrare totalmente quelli che sono i ritmi circadiani. Quindi non diamo più delle tempistiche equilibrate di assunzione di cibo e astensione da cibo e questo ci porterà sicuramente nel nuovo termine a avere delle problematiche più che altro a livello del sonno e a livello della digestione. Quindi vedremo che se continuiamo a spizzicare per troppo tempo, quindi non limitato a uno o due giorni e questo può capitare, andremo proprio ad alterare anche tutta la funzionalità intestinale, quindi la regolarità intestinale. Quindi per preservare invece un equilibrio gastrointestinale e della nostra flora batterica e del nostro intestino, cerchiamo di avere e di seguire delle regole semplici e chiare. Prima regola appunto, mantenere degli orari stabili. Come vi dicevo anche nel primo video, cerchiamo di mettere sempre la sveglia al mattino, darci degli obiettivi e quindi non posticipare troppo il risveglio. Questo ci permetterà sicuramente di avere un tempo idoneo tra la colazione e il pranzo, quindi se non ci svegliamo ipoteticamente alle 8, riusciremo a fare una colazione equilibrata e bilanciata e mantenere almeno 3-4 ore dal pasto principale che è il pranzo. Per quanto riguarda la colazione, quindi che va inserita preferibilmente entro le 8 o le 9 del mattino, possiamo scegliere dei carboidrati integrali, quindi una fonte di carboidrati provenienti da fiocchi di avena oppure del pane integrale, oppure possiamo inserire dei pancake, in questo periodo abbiamo più tempo per cucinare al mattino, quindi preparare anche dei pancake freschi dove all'interno è presente anche l'uovo, quindi una fonte proteica, oppure possiamo inserire anche la granola o dei cereali senza zuccheri aggiunti. Un altro nutriente da inserire durante la colazione è una fonte proteica, quindi possiamo scegliere un oio augur magro o un oio augur greco, oppure possiamo fare una colazione salata con dei panni di segale e un affettato magro o della ricotta che ci permetterà di essere più sazi durante la mattinata. Infatti la quota proteica impiega maggiore tempo nella digestione e nell'assorbimento e questo ci permetterà di arrivare più sazi all'ora di pranzo. Ricordiamo di inserire sempre nella colazione anche una fonte di idratazione, quindi un tè, una tisana, una tazza d'orzo, oppure mantenendo sempre la quota proteica anche una tazza di latte cremato o intero in base alle nostre esigenze nutrizionali. Bilanciando bene la colazione del mattino saremo più sazi durante la prima mattinata, quindi fino all'orario di pranzo e sicuramente anche più energici. Il secondo passo principale invece è costituito dal pranzo. Durante il pranzo dobbiamo inserire tutti i nutrienti fondamentali, quindi carboidrati complessi, in modo particolare possiamo scegliere anche cereali integrali che impiegano maggior tempo, quindi magari nella nostra quotidianità non abbiamo tempo di cuocere del riso venere, del farro o dei cereali comunque che impiegano circa 40 minuti, in questo caso abbiamo tutto il tempo per preparare i nostri cereali integrali e possiamo anche sostituirli alla pasta o al pane. Possiamo avere due opzioni per il pranzo, o scegliere di inserire la quota di carboidrato e delle verdure, in questo modo andiamo a ridurre quindi la quota proteica all'interno del pasto che andremo ad aggiungere poi la sera. Oppure potremmo fare il nostro piatto bilanciato, quello che consigliamo sempre, che vi consigliamo sempre, dove inseriamo un bilanciamento tra quota dei carboidrati, quindi pasta, pane, riso, cereali integrali, insieme a delle quote proteiche, in questo caso possono essere anche un formaggio fresco oppure una carne magra o ancora meglio del pesce all'interno del sugo che ci permette di equilibrare e bilanciare il pasto completo. Naturalmente la quota proteica è presente in piccolissima parte anche nei cereali integrali, quindi nel bilanciamento vi ricordo sempre di inserire una quota inferiore, una quota proteica inferiore a pranzo rispetto che alla cena. Le nostre verdure invece cerchiamo sempre di inserirle sia a pranzo che a cena, proprio per ottimizzare e migliorare il senso di sazietà, ma anche per bilanciare meglio l'indice di cenico, soprattutto nel pranzo dove andremo ad inserire la quota di carboidrato. Per quanto riguarda invece la cena, il nostro terzo passo principale possiamo scegliere di fare una cena comunque più leggera rispetto al solito, proprio perché il nostro dispendio energetico in questi giorni si sta riducendo, quindi siamo un pochino più sedentari rispetto al solito e quindi possiamo alleggerirla riducendo in parte le quantità. Nella cena consiglio sempre comunque una fonte proteica, una piccola quantità di carboidrato e naturalmente le nostre verdure che ci permettono di avere maggiore senso e sazietà e soprattutto andiamo a completare il piatto anche arricchendolo di vitamine e di sali minerali. Queste sono alcune tipologie di come suddividere i nutrienti durante la giornata, però ci possono essere anche dei casi eccezionali, ad esempio persone che preferiscono inserire il carboidrato alla sera o comunque una quota maggiore di carboidrato alla sera e allora in quel caso dovremmo andare a bilanciare nei tre pasti principali le nostre quote di carboidrati, proteine e grassi. Ricordiamoci sempre anche di inserire una piccola quota di grassi buoni, quindi provenienti principalmente dall'olio d'oliva oppure anche dai semi o dalla frutta secca che possono essere utilizzati anche e soprattutto nel condimento delle insalate. Ricordiamoci però che hanno un valore calorico molto alto, quindi se andiamo ad inserire una quota di grassi buoni all'interno del nostro pasto dovremo andare a bilanciare meglio le porzioni di proteine e di carboidrati. Nel caso in cui preferiamo invece il carboidrato serale che sappiamo essere anche molto utile nel facilitare il sonno proprio perché qualsiasi tipo di carboidrato in modo particolare i cereali sono molto ricchi di triptofano che migliorano il sonno, dobbiamo andare a ridurre la quota di carboidrato a pranzo e quindi inserire un pranzo principalmente proteico e ricco di verdure. Un'altra opzione etasistica che si potrebbe venire a presentare è quella di inserire degli spuntini tra un pasto e l'altro. In modo particolare negli spuntini preferiamo la frutta o comunque un yogurt magro, un kefir che hanno un basso potere calorico ma allo stesso tempo ci permettono di reintegrare anche quelle vitamine o quei fermenti lattici nel caso dello yogurt o del kefir che permetteranno una regolarità intestinale durante questo periodo un pochino più sedentario. Un'altra cosa molto importante è lo spuntino post cena, siamo a casa quindi magari la sera guardiamo la tv, non siamo impegnati in altre attività ed è per questo che ci può venire fame. In questo caso nessuna preoccupazione, andiamo solo a suddividere meglio i nutrienti e le calorie nelle pasto serali e quindi andiamo a ridurre leggermente quelle che sono le quote caloriche nella nostra cena, magari riducendo la quota di carboidrato o la quota proteica e poi andiamo ad inserire un piccolo spuntino prima di andare a letto. In questo modo potremo andare a mantenere le quantità caloriche opportune per il nostro fabbisogno e allo stesso tempo suddividere quindi questi due pasti e non avere fame nel dopo cena. Lo spuntino che io consiglio nel dopo cena, quindi sempre comunque distanziato dalla digestione della cena, quindi almeno un'ora e mezza, due ore, è un frutto oppure uno yogurt macro. Nel caso del frutto andiamo a scegliere sicuramente frutti a un basso indice calorico e anche a un basso indice glicemico come ad esempio il kiwi, le fragole, una rondella di ananas e questo ci permetterà comunque di stabilizzare meglio la glicemia nelle ore serali, soprattutto per tutte quelle persone che tendono ad avere insulino resistenza, quindi problematiche di diabete di tipo 2. Oppure andiamo ad inserire dello yogurt, quindi la quota proteica, che andremo a ridurre poi nella cena. Quindi se noi sappiamo di inserire una piccola quota proteica prima di andare a dormire, andremo a ridurre quella quota proteica, quindi quella quantità di proteine nella nostra cena, quindi riducendo carne, pesce oppure latticini o uova. Possiamo anche inserire della frutta secca ricordandoci che presenta vitamine, soprattutto vitamina E e soprattutto magnesio per quanto riguarda le mandorle, che anch'esso facilita il riposo, quindi soprattutto in questo periodo in cui siamo tutti un po' tesi, tutti un po' preoccupati magari per la situazione che si è presentata, il magnesio sia come supplementazione ma anche all'interno degli alimenti, quindi ad esempio nella frutta secca e nelle mandorle, ci può aiutare a riequilibrare quelli che sono i nostri livelli di stress e facilitare anche in questo caso il riposo notturno. Quindi da questo video abbiamo capito che anche durante il periodo della quarantena l'alimentazione deve rimanere in una situazione equilibrata. Possiamo gestirci in modo diverso proprio perché abbiamo ritmi e tempi diversi durante la giornata, quindi cerchiamo di mantenere degli orari regolari per quanto riguarda i pasti in modo tale da regolarizzare e mantenere equilibrati i nostri ritmi circoliani e anche la funzionalità intestinale. E un'altra cosa è poter scegliere la gestione dei pasti e dei nutrienti durante la giornata, quindi se abbiamo difficoltà nel fare troppi spuntini, andiamo a inserire principalmente le quote caloriche suddivise nei tre pasti principali. Se invece ci capita di spizzicare continuamente, cerchiamo comunque di avere delle regolarità e quindi dei momenti di pausa tra un pasto e l'altro, mantenendo i cinque pasti al giorno con spuntini leggeri e allo stesso tempo ricchi di vitamine e minerali come la frutta. Oppure nel caso in cui abbiamo la necessità di inserire uno spuntino pre-nanna, chiamiamolo così, andremo a ridurre la quantità calorica e di nutrienti nella nostra cena e andremo comunque ad inserire un piccolo spuntino prima di andare a letto. Quindi, come avete visto, le variabili sono tantissime nella gestione del nostro piano nutrizionale quotidiano e settimanale. Spero che anche con questo video abbiate qualche consiglio in più che vi possa aiutare nella vostra quotidianità. Vi mando, come sempre, un abbraccio grande e virtuale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!